Quelli che vedete inquadrati non sono manifesti elettorali visto il periodo, ma cartelli che ben manifestano un disagio, un disagio che in realtà prosegue da parecchi anni. Qui siamo ad Alessandria, davanti alla sede dell'ufficio territoriale e provinciale per quanto riguarda la caccia. State per entrare a discutere, come leggiamo, un problema annoso ma tuttora attuale, quello appunto dei danni alle colture per quanto riguarda gli ungulati, caprioli e cinghiali ma non solo. Sì, da anni discutiamo di questo problema e purtroppo non ci sono delle soluzioni efficaci. Quindi i nostri agricoltori sono esasperati, sono a rischio le loro aziende ma è a rischio l'economia di molti paesi che sull'attività agricola hanno la risorsa principale. Quindi ci vogliono degli interventi che fino ad oggi non ci sono stati. Quando caprioli e cinghiali si avvicinano alle colture e ai germogli e quindi li mangiano vanno a provocare un danno non soltanto sulla coltura di quest'anno ma anche su quella successiva? Certo, sì. Il danno soprattutto sulle colture pluriennali è non soltanto nell'anno in corso ma anche negli anni successivi. Abbiamo avuto dei danni incredibili sui vigneti, sui frutteti, quindi culture di pregio che economicamente importanti per il nostro territorio e per la nostra provincia danneggiati per più anni. Quindi l'intervento del cinghiale oggi è anche un danno domani e dopo domani. Anche altre colture comunque sono danneggiati tutti gli anni, parliamo del mais, delle orticole. Ormai non c'è più nessuna cultura che non sia danneggiata. Confagricoltura e CIA insieme hanno già affrontato insieme battaglie e campagne per lo meno di sensibilizzazione per quanto riguarda il contenimento degli unghiurati sul territorio. Anche questa volta Confagricoltura e CIA sono assieme come hanno sempre portato avanti questa battaglia che non è una vera battaglia perché noi non vogliamo distruggere una fauna selvatica, vogliamo solo che questa sia contenuta e ci siano dei piani di contenimento che possano permettere alle aziende agricole comunque di fare il loro lavoro perché è vero possono esserci un rimborso dei danni che ultimamente non arriva però l'agricoltore vuole produrre nella propria azienda, non vuole essere risarcito per un danno. Protesta civile silenziosa da parte degli agricoltori qui presenti però dentro si parla, ci sarà un incontro, metterete sul tavolo determinati argomenti. Sì, stamattina ci sarà un tavolo prevalentemente sul discorso dei cinghiali che non è il problema principale ma come hanno detto gli altri agricoltori, gli altri miei colleghi, riguarda soprattutto tutta la fauna a partire dalle nutri e a partire dai, cioè quindi poi seguendo caprioli perché purtroppo e non ultimo abbiamo parlato anche recentemente di lupo perché non dobbiamo dimenticare che anche questo predatore può essere sì una risorsa ma potrebbe diventare anche un problema quindi bisogna monitorare sicuramente anche l'incremento di questi animali sul nostro territorio, una new entry.